DOKCAN BATTLE Ma più che altro con la versione global di DOKCAN BATTLE Soprattutto in relazione alla versione giapponese del gioco Ed il motivo è facilmente intuibile La versione Z del gioco, la versione upgradata Era già disponibile nel GAP da circa un mesetto e mezzo, due mesetti Se non sbaglio da novembre, non voglio dire una fesseria Nel global invece è finalmente arrivata con l'aggiornamento di oggi Quindi finalmente possiamo giocare anche noi player global In realtà io sono anche un player GAP ma va bene Comunque possiamo finalmente goderci anche noi la versione migliorata di DOKCAN BATTLE Con la versione Z che porta innumerevoli migliorie da qualsiasi punto di vista E soprattutto in qualsiasi menu la si voglia andare a guardare Vi dico e vi annuncio che questa sera con tutta probabilità ci vediamo in live con DOKCAN BATTLE Proprio con la versione Z della versione globale Quindi mi raccomando non mancate perché di sicuro ci andremo a portare a termine tutte le board Perché sì ne sono cinque Ci sono cinque board da poter farmare all'interno del gioco adesso Per poter poi alla fine riscattare la LR di Goku che fidatevi è fortissima In molti pensavano che questa qui fosse soltanto una di quelle classiche LR che regalano ma che inserve a un caspito E soprattutto che regalano i nuovi player Fidatevi questo qui sarà un regalo molto molto apprezzato anche per i player veterani Perché è davvero una bella carta E vi ritroverete a giocarla più e più volte ve lo posso garantire Quindi andremo sicuramente a farmare lui Ci saranno da farmare tante stone ve lo dico da queste board Ed andremo anche poi a sviscerare ancora di più la versione Z Start Qui abbiamo già la prima grande migliori o meglio il primo grande cambiamento a livello di menu rispetto al passato Abbiamo l'aggiunta della Dragon Ball Story Che vi invito a farmare perché anche qui ci sono delle novità E soprattutto se non sbaglio ci sono delle stone che potremmo ottenere Ma a parte questo a parte questo comunque se non sbaglio servirà tantissimo questo evento Proprio per farmare le board per poi portarci a casa sia le stone che la LR di Goku Ora andiamo un attimo a vedere altre migliorie Ad esempio nel menu team abbiamo in primis la possibilità in questo momento di poter creare Praticamente 10 team ma per ogni pagina Ed abbiamo praticamente 5 pagine a disposizione Per un totale quindi di 50 team Che è tantissima roba Proviamo a fare un auto select senza auto selectare il leader Anzi proviamo a fare così guardate Auto selectiamo come leader ad esempio Vegeta E vediamo se mi auto selecta un powerful comeback più rappresentanti dell'universo 7 Vediamo un attimo cosa mi crea ad esempio Ecco qui mi ha creato praticamente sia powerful comeback che rappresentanti dell'universo 7 Powerful comeback ovviamente abbiamo i vari Gogeta come vedete E poi l'universo 7 abbiamo i vari Gogeta istinto eccetera 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 Io direi guardate proviamo ad auto selectare questo team Anzi proviamo a farne un altro Vai utilizziamo ad esempio Legendary Existence, Super Saiyan eccetera Come vedete Bojack ovviamente che non sembra azzeccarci nulla fra i Super Saiyan Ma comunque rientra nelle Legendary Existence Quindi come vedete funziona più o meno bene questa feature Più o meno bene cioè fa quello che deve fare Quindi serve tantissimo anzi servirà tantissimo per i nuovi player E a questo punto andiamo a vedere anche un'altra miglioria proprio legata al team building Infatti nel momento in cui adesso noi entriamo in battaglia Come vedete non abbiamo più la scelta del personaggio che vogliamo portarci come amico Ma ci viene automaticamente auto selectato in base a quello che è il leader del nostro team Quindi è come se il gioco scegliesse quasi una sorta di leader migliore in base al team che noi abbiamo messo su In questo caso Legendary Existence più Super Saiyan Possiamo ovviamente anche farglielo riscegliere nel momento in cui cambiamo team Ad esempio se io entro qui in questa schermata e voglio decidere di utilizzare per dirvi quest'altro team È vero che il gioco mi ha auto selectato Goku come leader Ma io andando a premere qui mi cambia automaticamente nel leader migliore per il team che io ho cambiato Rimettiamo di nuovo Legendary Existence Ovviamente io posso anche auto scegliermelo se a me non va bene questo leader Posso tranquillamente fare la selezione classica a cui siamo sempre stati abituati E ovviamente noi a questo punto portiamoci in battaglia anche Perché abbiamo anche un'altra forse la più importante miglioria L'automap e l'autobattle Non tanto l'automap ma più che altro l'autobattle Che purtroppo ragazzi Per quanto possa funzionare male Per quale motivo? Perché ovviamente non sta lì a gestirvi le varie rotazioni Non sta lì a gestirvi Faccio linkare questo personaggio con quest'altro personaggio Perché linka meglio eccetera No, semplicemente in base a quello che è l'ordine che viene generato casualmente dal gioco Sia all'inizio della fight e sia nei turni eccetera eccetera Non riposiziona Lascia i personaggi così Gli fa prendere giusto l'unico ragionamento che può fare al massimo E soltanto fargli prendere quante più orb possibili Per raggiungere un key meter più elevato Con quel singolo personaggio in realtà Quindi se si trova Come vedete guardate questo turno come me l'ha lasciato Cioè me l'ha lasciato praticamente Non facendo linkare nessuno A parte che comunque nessuno avrebbe potuto linkare Partiamo da questo presupposto ok Però mettiamo caso che potevano linkare i personaggi Ma avrebbe comunque lasciato Gokuint I due Gokuint Vicini Ok? Quando invece sarebbe stato sicuramente Meglio Mettere Un Gokuint Un altro personaggio in mezzo Che non sia un altro Con lo stesso nome Identico E poi L'altro Gokuint Invece queste cose non le fa come vedete Cioè Lui lancia il turno così com'è Adesso abbiamo quello che potremmo definire quasi Il Miglioramento definitivo Da quale punto di vista? Ecco qui Ad esempio se noi proviamo a prendere questo Bojack Adesso noi possiamo Attivare Fin dove c'è possibile Ovviamente Attivare Tutti I singoli nodi dell'ability Ecco qui Basta cliccare soltanto su Activate All E il gioco ci autoattiverà da solo Tutto il possibile Qui in questo caso mi ha effettivamente attivato tutto il possibile Anche perché l'avevo già portato ad S10 Lui devo solo farmargli le medaglie Però attenzione Attenendosi ad una regola E cioè Alla regola del non scegliere Infatti Dove ci sarà da scegliere Potremmo ancora tranquillamente farlo noi Quindi Veramente ottimo Soprattutto intelligentissimo Per quanto riguarda i team Onestamente non credo ci siano altri miglioramenti Sia nell'awaken Nel cell Training Eccetera eccetera Non me ne Non li ricordo onestamente Dei miglioramenti drastici All'interno di questo menu Nella home anche li abbiamo visti Nelle summon Questa E' una cosa Global exclusive Possiamo dirla Questa summon Con Una volta al giorno Se non sbaglio Per 22 giorni Potrei star dicendo una fesseria Ma comunque era una ventina di giorni di sicuro Abbiamo praticamente una singoletta Gratuita Che ci restituisce Un personaggio Ora io Facciamocela insieme Non ho ben capito però E' una cosa raga Che praticamente si è scoperta Questa mattina Nessuno la sapeva prima Quindi vorrei capire Questa singoletta Cos'è che restituisce Se restituisce un personaggio A casissimo Cos'è restituisce SSR No ok 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 Pensate Nella mia mente Ho visto il banner E tutto il resto E ho detto no vabbè Sto banner veramente restituisce Praticamente Un Dokkan festa Al giorno Sarebbe stato distruttivo In effetti non è così Però comunque Oh Almeno è una cosina in più Raga Si può sculare qualcosina Ovviamente si La leggenda resa Un di Janemba Che lasciamo perdere Non ci interessa Un altro miglioramento Che potrebbe servire A pochi Soprattutto ai free to play Ai total free to play E questo qui In realtà che è Totalmente temporaneo Dura praticamente Per cento ore Durante le prime cento ore In realtà Della versione Z Non è più ripetibile E una cosa però Che attenzione Io mi sentirei questa qui Di consigliare Non entrambi i pacchetti Ma almeno il pacchetto Da 3,99 Mi sentirei di consigliarlo Anche a coloro Che o non shoppano mai Nel gioco O che comunque shoppano Veramente Veramente di rato Perché è Un'ottima Ottima offerta Questa qui Pagate praticamente Lasciamo perdere tutto il resto Pagate 50 stone 3,99 Che sarebbero Praticamente Al dollaro Io ragiono al dollaro Poi voi ragionate in euro Ma al dollaro sarebbero Un qualcosa come 12 stone Sono tantissime Tantissime Andando a considerare Questa 24,99 Per quanto siano tanti soldi E ve la sconsiglio A questo punto Io la prenderò Ma perché sono un creator L'ho già fatto nel jump Lo faccio qui Perché comunque Sono tante stone E onestamente Sono investimenti Per me Più che altro Mi permettono Di potervi portare Qualche contenuto In più Lo facciamo stasera In realtà Se volete Me ne vado anche A shoppare stasera Però Cioè in questo momento Però d'altra parte C'è oltre alle 100 stone Lasciando tutto perdere 100 stone Che sarebbero Circa 4 stone Al dollaro Che ci possono anche stare Quindi siamo al pari Praticamente Dello sconto Più o meno buono Del gioco Sempre più o meno buono Fra moltissime virgolette La 3,99 È ottima È ottima Veramente È un tasso di scambio Veramente ottimissimo C'è anche però Almeno la La dragon stone verde Che ci permette Di poter scambiare Una LR Quindi io faccio una cosa Me le vado a prendere adesso Prese entrambe E a questo punto Dovrei avere anche La stone verde A disposizione Da poter scambiare Vediamo un pochino Dove me l'ha messa Oh mio dio Dove stai Non ti vedo Perché non ti vedo Eccola qui Perfetto Sì che devo ovviamente Andare a ritirare Mi sembra giusto Devo andare a ritirare All'interno del gift box E adesso abbiamo Da poter scambiare Questa qui Per una LR Che decideremo Questa sera Quindi mi raccomando Il live vi aspetto Perché deciderò Insieme a voi Quale LR Andare a scambiare All'interno Della versione Quindi ragazzi A questo punto Direi che questa Sorta di showcase Della versione Z Può dirsi Concluso qui Spero di non aver Dimenticato nulla Spero di aver fatto Veramente uno showcase Generale Di tutto il gioco Di come è diventato In questo momento Veramente Molto più fruibile E godibile Va detto E quindi A questo punto Ci si può anche Concentrare Un pochino di più Sugli eventi Più importanti Del gioco E non più A farmare Rifarmare Rifarmare Le medaglie Quando mettete L'autobatto E gli fate fare Tutto al gioco Va bene? Detto questo Vi aspetto Questa sera Live Mi raccomando Non mancate Quindi mi piace Commenti Iscrivetevi Condividete Noi ci vediamo Appuntamento Come al solito Ad un prossimo Video